Sicuramente di seguire le sue aspirazioni, le sue passioni, di studiare perché ritengo che studiare sia importante per poter accedere a certi settori e comunque avanzare nel mondo del lavoro, ovviamente di non lasciarsi demoralizzare perché comunque i momenti difficili si presentano sempre per tutti, di essere forte, di andare avanti con i suoi obiettivi. Grazie per la visione!